Rol se la ride, la sua alfa berlina non teme la pioggia, Rosier invece se la prende la tutta e così Louvaux. Biondetti si era attrezzato per la canicola, le sue candele non sopportano il freddo. 20 giri, 510 chilometri, gara senza colpi di scena. Nella sua berlina adulto Mosè salvato dalle acque, Rol si batte la campione. Non meno bravo quantunque zuppo, pallone su Ferrari. Biondetti costretto a fermarsi tira Moccoli alle sue candele senza scintille. E' ripartito, spenti i Moccoli, riaccese le candele. In testa continua il soliloquio di Rol, il torinese ha ormai corsa vinta. Breve schiarita, sorriso di sole sulla vittoria imminente. Ballone secondo, Pagioli da vecchio primatista del circuito ha vinto fra le 1100.